disgraziati maledetti disgraziati allora disgraziati sono iniziato le nuove iscrizioni buongiorno buongiorno sono iniziato le iscrizioni iscrivetevi maledetti iscrizioni per la nuova stagione 2019 allora inizieremo con f1 2018 faremo 6 settembre gare tipo un academy per vedere il tutto poi per definire la lobby poi ci sarà quindi il gioco nuovo disgraziati e lì possiamo dire la nostra li faremo una lobby fissa manco non vuole esagerare un 6 giocatori quando deve da fare mandate un messaggio al numero che vi metto in sopra pressione sotto le descrizioni vi mandate un messaggio lì che cazzo vuoi disgraziato maledetto sennò vi spacco la testa vi spacco la testa iscrivetevi a sto cazzo di canale pollicione su iscrivetevi a sto cazzo di campionato ball organizzato tutto bello preciso si venite anche voi ball e niente aspetto a voi disgraziati iscrivetevi al campionato ho mandato un email oppure tramite whatsapp ma cazzo si dice lui whatsapp vedete un cazzo di messaggio sarò io personalmente disgraziato di rispondere vi metto nel gruppo telegram date il nome psn e vi metto nel gruppo telegram e niente disgraziati io vado a lavorare stasera la grande puntata della mia carriera su assetto corsa abbiamo fatto l'inizio dalle ore arrivo da coglioni porca puttana vedete che cazzo di fucu di mal che avevo fatto madonna l'ingronetto ciao a tutti ragazzi da tiglio boris è tutto buonasera